Cinque anni e quattro mesi di reclusione, questa la stangata inflitta dal GIP Fabio Lombardo al giovane Kossovaro che aveva terrorizzato gli studenti aretini aggredendoli e rapinandoli. Si è concluso così il processo in rito abbreviato che prevede in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena. Presenti in aula anche i genitori dei ragazzini finiti nelle sue grinfie. Il pubblico ministero per lui aveva chiesto una condanna a cinque anni e sei mesi. Il giovane era stato arrestato lo scorso 23 maggio dagli uomini della squadra mobile di Arezzo che lo avevano fermato in stazione mentre stava salendo sul treno che lo riportava a casa a Subbiano. Il ventenne nel corso di poche settimane aveva aggredito e rapinato ben 18 ragazzini. Di loro tre soli erano maggiorenni, gli altri tutti minori. Una vittima aveva addirittura solamente 13 anni. Il giovane agiva sempre allo stesso modo, gli attendeva l'uscita della scuola e si faceva consegnare soldi e cellulari, bottini di piccola entità che gli servivano però per acquistare la dose di stupefacente giornaliera. Gli episodi si erano consumati in zone di passaggio degli studenti da via 25 Aprile al parco Pertini per finire nel sottopassaggio di via Trasimeno. In un caso il rapinatore aveva addirittura rotto il setto nasale di un ragazzino che si era opposto alle sue angherie.